Da questo lunedì 20 settembre ha preso il via anche nel territorio dell'ATS e della montagna, quindi anche in Valle Camonica, la somministrazione della terza dose di vaccino. Viene fatta a soggetti ad alto rischio, trapiantati, persone in attesa di trapianto, pazienti oncologici o con immunodeficienze dializzati. Le vaccinazioni si possono prenotare tramite il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it cliccando sulla sezione terza dose, cittadini trapiantati e immunocompromessi oppure tramite il proprio medico curante o la farmacia di fiducia. La vaccinazione sarà effettuata nelle date e negli orari resi disponibili dai centri vaccinali presenti sul territorio di ATS e montagna in sede di prenotazione. Gli assistiti che avessero già ricevuto la convocazione da parte dei presidi ospedalieri non dovranno effettuare alcuna prenotazione sul portale. Intanto ieri la Regione ha tenuto a Palazzo Pirelli una conferenza stampa per illustrare come sarà gestita la terza fase vaccinale che in Lombardia riguarda 150.000 pazienti che saranno vaccinati da qui al 30 ottobre con circa 2.000 vaccinazioni al giorno. Inoltre le nuove disposizioni sul Green Pass hanno richiesto di rendere disponibili nuove vaccinazioni per le prime dosi per cui è prevista dal 1 al 30 ottobre una fase di transizione. Il ciclo vaccinale a tre dosi è previsto per le persone immunocompromesse, trapiantati e gravi immunodepressi. La dose addizionale deve essere somministrata almeno dopo quattro settimane dalla seconda dose. Partirà invece l'11 ottobre il richiamo con terza dose per i 680.000 over 80, gli 80.000 ospiti dell'RSA e 396.000 operatori sanitari. Per queste categorie il richiamo è previsto dopo almeno sei mesi dalla seconda dose. Ad oggi sono circa 14.600.000 le dosi totali somministrate in Lombardia. Oltre 7.300.000 cittadini lombardi sono stati completamente vaccinati. 501.800 sono in attesa della seconda dose e sono 7.832.992 cittadini coperti da almeno una dose. L'82% della popolazione in Lombardia ha completato il ciclo vaccinale. Un vaccinale che sta andando decisamente bene come effetto in Lombardia ci ha portato a essere da oltre tre mesi sempre in zona bianca. Abbiamo una percentuale positiva dell'1 rispetto alla percentuale italiana dell'1,7 e come incidenza dei contagi abbiamo 35,1 e sappiamo essere in discesa. I dati di oggi lo mostrano ulteriormente in discesa rispetto a una media nazionale del 54,4. Quindi sicuramente l'effetto della vaccinazione si è visto.